Allora, quando studiamo un personaggio dobbiamo tenere a mente le forme principali. Quindi abbiamo il quadrato, il cerchio e il triangolo. Possiamo utilizzare queste tre forme per andare a creare la cosiddetta shape. Quindi posso decidere di utilizzare il quadrato per il corpo, il cerchio per la testa e il triangolo per le gambe. Ovviamente la forma che vado ad utilizzare avrà un impatto sulla psicologia del personaggio. Quindi un personaggio buono avrà meno spigoli, quindi sarà più tondo. Un personaggio attivo avrà più spigoli, quindi più triangolari. Stesso discorso per i volti. Posso giocare con le forme, cercando prima la forma del viso e poi le linee di costruzione. Più o meno a metà si trova la linea degli occhi. E poi posso decidere dove mettere la linea del naso e la linea della bocca. Più muovo queste linee, più il mio personaggio sarà divertente. Poco noioso. Queste sono ovviamente solo alcune delle possibilità. Soprattutto nel character design, nell'animazione, nei videogiochi, possiamo spaziare tantissimo con le forme. Quindi l'importante è seguire le regole fondamentali, ossia tenere a mente le forme circolari, le forme quadrate e le forme triangolari. Mischiarle assieme e divertirsi mentre lo si fa, non avendo paura dell'errore, non pensando a sbagliare, ma cercando di spaziare il più possibile. Cercando sempre di tenere a mente la psicologia del personaggio che si sta andando a rappresentare. Cercando sempre di tenere a mente la psicologia del personaggio che si sta andando a rappresentare.